ma benvenuti in una nuova puntata di whatsapp economy podcast oggi parleremo di cambiamento climatico appena finirà l'introduzione next generation new e visegrad al minuto 3 46 next generation new targato italia al minuto 9 e 28 cina e l'abolizione della povertà al minuto 17 43 una piccola postilla al cashback di stato di cui abbiamo parlato settimana scorsa al minuto 26 55 parleremo anche di politica monetaria bce mercati finanziari al minuto 30 e 15 e parleremo per ultimo del reddito d'emergenza e della suo funzionamento e della sua efficacia al minuto 34 e 55 buon divertimento il 10 e 11 dicembre è avvenuto il consiglio europeo in cui si è parlato di varie cose tra cui anche di clima l'obiettivo dell'europa riguardo il clima è di diventare neutrale a livello di emissioni di co2 entro il 2050 però si è posto anche un obiettivo intermedio che ha la data del 2030 infatti entro il 2030 dovremmo ridurre del 40 per cento le emissioni di co2 nei confronti delle emissioni prodotte nel 1990 però dopo di ciò la commissione europea ha proposto di aumentare questo obiettivo nel 2030 dal 40 per cento al 55 per cento però il parlamento europeo ha rincarato la dose infatti ultimamente ha proposto sua volta l'obiettivo di aumentarlo fino al 60 per cento sempre nei confronti delle emissioni emesse nel 1990 nel consiglio europeo di dell'11 dicembre i capi di governo hanno deciso di imporre l'obiettivo intermedio del 2030 con un obiettivo pari al 55 per cento quindi sostanzialmente confermando la proposta della commissione europea come si può arrivare a ciò beh è scritto anche qui nel consiglio europeo che si implementeranno tutta una serie di iniziative che spingeranno la rivoluzione verde e il rispetto dell'ambiente all'interno di queste cose ad esempio è imposto lo stanziamento di fondi all'interno del budget europeo e del next generation new pari al 30 per cento di cui tutti questi fondi dovrebbero essere indirizzati verso per l'appunto tematiche verdi e il cambiamento climatico e in più si è anche posto un'attenzione riguardo l'aspetto finanziario infatti entro il 2021 ci dovrebbe essere una proposta su una standardizzazione dei bond dei titoli obbligazionari verdi dei green bond i cosiddetti green bond quindi non solo una spinta verso l'economia reale e il miglioramento dell'innovazione per un'economia verde ma anche un occhio di riguardo sulla finanza verde che ovviamente dovrebbe avere un ulteriore impatto riguardo il cambiamento climatico comunque il raggiungimento dell'obiettivo non è stato assolutamente semplice infatti il consiglio europeo è durato tutta la notte tra giovedì e venerdì 11 dicembre questo perché alcune nazioni tra cui in particolar modo la polonia mettevano molte pressioni sul non raggiungimento di questo accordo in quanto la polonia è uno dei principali produttori di energia derivanti dal carbone che è un elemento naturale che produce più co2 tra tutti in particolar modo la polonia spingeva sul fatto di porre questo obiettivo in base al pil di ogni singola nazione in modo tale che i paesi più piccoli a livello economico potessero agevolare una transizione molto più semplice e non imponendo dei paletti così restrittivi e soprattutto un altro argomento di cui si è discusso sono i sovvenzionamenti i finanziamenti riguardo proprio questa transizione verde alla fine comunque l'accordo si è trovato ma ora occupiamoci dell'altra parte del consiglio europeo quella probabilmente che ha creato più polemiche stiamo parlando del accordo raggiunto tra i paesi di visegrad e tutti gli altri paesi dell'unione europea riguardo il budget europeo del 2021-2027 e il next generation new di questa cosa ne avevo parlato più in dettaglio in un video credo che sia uscito verso ottobre comunque se dici date whatsapp economy paesi di visegrad credo che vi uscirà su youtube e se volete approfondire la questione è più nel dettaglio andate a recuperare quel video basti sapere comunque che i paesi di visegrad avevano posto il bastone fra le ruote all'approvazione del budget europeo del next generation new proprio perché non solo gli stati europei ma anche la commissione europea avevano imposto agli stati membri dell'unione europea quello di rispettare lo stato di diritto che sono delle norme sacrosante e anche se vogliamo abbastanza semplici da rispettare ma non per alcuni lo comprendo riguardo ad esempio il rispetto delle minoranze o ancora rispetto dell'opinione altrui soprattutto politica e tutta un'altra serie di cose ripeto andate a recuperare quel video se siete più interessati addirittura c'è stato uno esponente politico dal nome di giorgia meloni che aveva ipotizzato che ci fosse stato dietro lo zampino della germania che aveva posto lo stato di diritto proprio per far crollare il next generation new di questo magari ce ne occuperemo in un video adatto che probabilmente uscirà domenica e credo che sarà abbastanza croccante la verità è che la questione del dello stato di diritto è stata posta dalla commissione europea fin dal 2018 ed è stata ribadita proprio nei consigli europei che stavano andando a definire l'effettiva soluzione del budget europeo del next generation new ovviamente il bastone fra le ruote dei paesi di visagrad rischiava di far assaltare il next generation new per questo proprio la germania contrario di quello che sostiene la meloni e con un grande merito della merkel ha riuscito a trovare un accordo tra i paesi europei i paesi di visagrad alla fine l'accordo si tratta di una di una cosa che tutti quelli appartenenti al consiglio europeo hanno ritenuto come ragionevole e cioè lo stato di diritto parte dal primo gennaio 2021 quindi entrerà effettivamente in vigore quindi gli stati dovranno rispettare lo stato di diritto per accedere ai fondi europei sia da parte del next generation new che da parte del budget europeo però nel caso in cui ci dovessero essere delle contestazioni riguardo appunto uno stato che non rispetta lo stato di diritto questo stato accusato può fare appello alla corte di giustizia europea e avrà quindi un delay di questa sentenza di due anni e fino a questi due anni lo stato europeo potrà comunque accedere ai fondi del next generation new e del budget europeo una volta però che nel caso in cui la corte di giustizia trova effettivamente un reato un illecito riguardo per l'appunto questo stato di diritto allora lo stato di diritto si viene definito retroattivo significa che anche se lo stato di diritto entra in vigore nel 2021 fanno causa e la corte di giustizia si crea il suo giudizio dopo due anni e quindi nel 2023 quindi c'è la retroattività significa che i fondi che sono stati emessi dal 2021 al 2023 possono essere revocati per questo significa la retroattività è una notizia importante per il parlamento europeo che teneva riguardo questa questo rispetto dello stato di diritto che entrerà in vigore dal primo gennaio 2021 è un impasto importante anche per tutti gli stati membri che hanno sbloccato finalmente la questione del next generation new e del budget europeo quindi ufficialmente ci sarà una nuova forma di debito comunitario a livello europeo questo ormai lo possiamo dire in maniera ufficiale e questa è una buona notizia ma è anche una notizia per i paesi di visegrad soprattutto per l'ungheria perché nel 2022 l'ungheria entrerà nelle elezioni e fino a quel momento orban almeno avrà una gatta da pelare in meno infatti potrà comunque godere di tutti i fondi del budget europeo e nonostante ciò fare un po il cazzo che gli pare sostanzialmente quindi può prendere sia i fondi europei che non rispettare lo stato di diritto tanto poi il problema sarà posticipato a dopo le elezioni quindi è sicuramente una gatta da pelare in meno anche per orban quindi diciamo che sono un po tutti vincitori e tutti un po festeggiano ovviamente come al solito lo ormai lo ripetiamo fino alla nausea qui su whatsapp economy le decisioni prese nel consiglio europeo in generale in tutta l'europa sono delle decisioni di compromesso che devono fare un po contenti tutti e in questo caso è un ulteriore esempio di questa situazione europea a 27 in cui ognuno deve deve rispettare non solo i propri interessi ma anche un po accontentare anche gli interessi degli altri quindi next generation eu confermato budget europeo confermato e anche il diritto lo stato di diritto è confermato prossima notizia vediamo un po in dettaglio cioè in dettaglio non tantissimo però in linea generale qual è l'idea dell'italia nei confronti del next generation eu e di come andrà a spendere i soldi andiamo alla prossima notizia ma ora parliamo del next generation eu targato italia è argomento che si è discusso molto in questa settimana soprattutto per la proposta da parte di conte di nominare sei manager che avranno il compito di controllare tutti i lavori e i progetti riguardanti per l'appunto questo next generation eu che ha creato delle tensioni nella maggioranza soprattutto di renzi che ha si opposto e che ha rischiato di far crollare il governo insomma tutte questioni politiche di cui grazie a di whatsapp economy non si occupa infatti noi ci occupiamo di economia ma visto che questo argomento del next generation eu targato italia è ancora in una fase di bozza non approfondiremo molto questo argomento perché appunto potrebbero cambiare alcune cose fin dall'inizio ad esempio la cifra si parlava di 209 miliardi adesso si parla di 196 miliardi quando in realtà la cifra esatta non la sapremo fino al dalmeno il 2023 in quanto una componente di questa cifra cambierà in base a come la nazione reagirà alla livello economico dalla pandemia comunque la bozza si basa su 196 miliardi di euro di questi 196 miliardi come abbiamo detto per l'ambiente devono essere imputati almeno il 30 per cento in questo caso il governo italiano imputa alla rivoluzione verde la transazione ecologica transizione ecologica il 37,9 per cento di tutti i fondi stiamo parlando a livello numerico di 74,3 miliardi di euro mentre per la digitalizzazione innovazione e competitività e cultura altro pilastro europeo riguardo l'utilizzo di questi soldi stiamo parlando del 24,9 per cento dei soldi utilizzati e quindi stiamo parlando del 48 di 48 7 miliardi di euro quindi sono queste le voci più grandi del next generation eu italiano successivamente si va a parlare di infrastrutture per una mobilità anche qui sostenibile parliamo di 27,7 miliardi di euro soprattutto si ci verranno stanziati di questi 27 miliardi 23 miliardi all'alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 un'altra cosa che mi sono scordato di specificare riguarda la transazione transizione ecologica e al cambiamento climatico la gran parte di 74 miliardi che verranno stanziati appunto per questo obiettivo 40 miliardi andranno all'efficienza energetica la riqualificazione degli edifici argomento molto importante soprattutto per le grandi città in quanto il riscaldamento delle case è uno degli dei fattori che più impatta l'inquinamento delle delle grandi città e quindi sicuramente in questo senso questi soldi potrebbero fare un gran bene se ovviamente ben spesi alla nostra salute ai nostri polmoni passiamo poi dopo all'istruzione alla ricerca che verranno stanziati 19,2 miliardi pari al 9,8 per cento di tutti i soldi a disposizione in particolar modo 10 miliardi andranno al potenziamento della didattica e al diritto allo studio e al 9,1 e 9,1 miliardi alla ricerca all'impresa quindi ricerca e sviluppo dell'impresa verranno investiti in questo senso arriviamo poi alla fine al 8,7 per cento di tutti i soldi messi a disposizione dall'europa parliamo di 17,1 miliardi di euro per la parità di genere coesione sociale e territoriale qui è un argomento che come sapete mi tocca molto soprattutto per la parità di genere e l'introduzione delle donne la partecipazione delle donne al mondo del lavoro cosa su cui l'italia è estremamente indietro chissà se 4,2 miliardi basteranno per risolvere questo problema poi ci arriviamo riguardo le previsioni di efficacia e in ultimo l'ultimo pilastro di questo next generation new italiano è la salute verranno impiegati 9 miliardi che sono pari al 4,6 per cento di tutto l'importo del next generation new in particolar modo 4,8 miliardi all'assistenza di prossimità e telemedicina e 4,2 miliardi riguardanti l'innovazione la ricerca della digitalizzazione dell'assistenza sanitaria che impatto avrà il next generation new riguardo la crescita italiana ce lo dice la bozza di governo stessa che prevede l'impatto del next generation new pari allo 0,3 per cento nel 2021 lo 0,5 per cento nel 2022 l'1,3 per cento nel 2023 l'1,7 per cento nel 2024 il 2 per cento nel 2025 e il 2,3 per cento nel 2026 quindi l'impatto che avrà il next generation new nei confronti dell'economia italiana si andrà ad espandere man mano col proseguire del tempo quindi man mano che i progetti effettivamente avverranno avverranno e quindi si importeranno a termine è bene specificare che queste cifre non significano che la crescita italiana nel 2021 sarà dello 0,3 per cento ma l'impatto del next generation new nei confronti dell'economia italiana sarà un aggiuntivo 0,3 per cento significa che senza next generation new l'italia crescerà probabilmente di uno 0,3 per cento in meno questo però è la prospettiva ottimistica e cioè che da parte del governo e cioè che tutti i fondi verranno utilizzati al meglio e ci sarà una grande efficienza da parte della pubblica amministrazione hanno fatto anche delle stime più pessimistiche e che addirittura diminuiscono il contributo del next generation new all'economia italiana nel 2026 di addirittura un punto percentuale quindi se ci saranno dei problemi all'interno della pubblica amministrazione l'economia italiana subirà un impatto positivo dal next generation new dell'1 per cento minore rispetto al caso in cui la pubblica amministrazione sarà sarebbe molto più efficiente quindi ritorniamo al discorso che molto spesso il problema dell'italia non sono i soldi ma l'efficienza nell'utilizzare questi soldi è bene specificare anche qui che queste sono delle semplici prospettive delle analisi ex ante e qualsiasi persona e questo è un avvertimento che vi dirà che questo contributo non è abbastanza o questa questo investimento varrà totto o tott'altro è semplicemente una chiacchiera da bar e questa cosa ce la dice in particolar modo l'ox infatti è proprio l'ox che ci avverte che l'impatto macroeconomico di tutte queste riforme strutturali derivanti dal next generation new possono essere valutate solo nel medio e lungo periodo quindi man mano che tutti i progetti andranno a termine e che quindi tutte queste stime ex ante sono effettivamente delle semplici stime che dipenderanno molto dalla durata dei progetti dalla prosecuzione del progetto da quanto effettivamente sarà efficiente l'esecuzione del progetto e da quanto poi in realtà il progetto avrà un impatto sull'economia che ovviamente da qui a 2 3 4 anni cambierà e quindi si dovrà adattare ai cambiamenti dell'economia quindi sono delle semplici stime non so vedremo come andrà comunque questa è una ripeto è una bozza vedremo poi entro fin anno dovremo avere le stime ufficiali e non solo anche i progetti ufficiali comunque è bene specificare che il termine massimo per presentare i piani di nazionali di resilienza e ripresa sarà il aprile il 30 aprile 2021 quindi ci sarà ancora del tempo come anche già specificato in un vecchio video che era stato richiesto dagli abbonati che tra l'altro ne approfitto per salutare e che rendono questa disgraziata trasmissione possibile come direbbe qualcuno più famoso di me e in quel video anche lì spiegavo tutti i paletti che aveva imposto l'unione europea e gli obiettivi che si era autoimposta l'italia in questo senso prossima notizia andiamo in cina nel settembre del 2018 dopo una prima accordo riguardo la nadef del primo governo giallo verde luigi di maio se ne uscì con una dichiarazione che rimase alla storia della politica italiana e cioè disse di aver abolito la povertà in italia riferendosi per l'appunto all'approvazione da parte del parlamento di una nuova misura e cioè del reddito di cittadinanza dopo due anni sappiamo benissimo che non è questa assolutamente la realtà e ho fatto già un video in merito parlando proprio del reddito di cittadinanza e di quanto questo abbia influito sulla eradicazione o meno della povertà in questo paese ma a due anni di distanza in realtà qualcuno ce l'ha fatta ad abolire la povertà in uno stato stiamo parlando della cina che il 23 novembre ha dichiarato di aver eradicato la povertà nel paese in realtà in questo senso la cina è stata un'avanguardista infatti l'obiettivo di abolire la povertà è stato annunciato addirittura nel 2012 quindi altro che 2018 quando e nel 2012 i poveri all'interno del paese erano addirittura 90 milioni ma cos'è la povertà credo che l'abbiamo definito in maniera abbastanza efficace nel video proprio del reddito di cittadinanza quando abbiamo detto che sostanzialmente il concetto di povertà è un concetto estremamente relativo abbiamo visto in quell'occasione come essere poveri addirittura in italia dipende da regione a regione c'è una quantità di denaro che ti permette di non essere povero al sud mentre di essere povero al nord la stessa cosa vale ovviamente per il discorso cinese infatti quei 90 milioni del 2012 che ad oggi sono rimasti praticamente zero stiamo parlando di poveri di povertà assoluta che quindi avevano difficoltà a sopravvivere all'interno della nazione in realtà se andiamo a vedere più in dettaglio la situazione il numero di poveri all'interno della cina è ancora abbastanza elevato stiamo parlando di 237 milioni di persone pari al 17 per cento della popolazione cinese questo 17 per cento equivale alle persone che non riescono a raggiungere la soglia di povertà stabilita dalla banca mondiale per un importo pari a 5,50 dollari al giorno quindi il problema è sì risolto ma per quanto riguarda appunto la povertà assoluta e non la povertà relativa nonostante questa specificazione quindi la distinzione tra povertà assoluta e povertà relativa comunque gli obiettivi raggiunti dal governo cinese in questi anni non sono assolutamente banali infatti se nel 1990 le persone in povertà assoluta erano pari a 750 milioni in cina nel 2018 addirittura erano il 3 per cento e ad oggi sappiamo che secondo il governo cinese la povertà assoluta è stata abolita e questa riduzione di tutta questa di queste persone in questi anni ha addirittura ridotto il tasso di povertà mondiale tra il 1990 e il 2018 di addirittura il 60 per cento quindi l'abolizione della povertà assoluta in cina significa una riduzione della povertà mondiale pari al 60 per cento tra il 1990 e il 2018 stiamo parlando di numeri veramente enormi la domanda a cui bisogna rispondere a questo punto è come ha fatto il governo cinese a risolvere questo problema scopriamolo sicuramente gli strumenti adottati dal governo cinese per risolvere questo problema non sono assimilabili a uno stato democratico come quello dei paesi europei oppure come quello americano si passa dalle soluzioni molto più normali come ad esempio quello di dare alla popolazione alimenti il vestiario necessario per condurre una vita normale fino a garantire l'accesso all'istruzione obbligatoria servizi medici di basi o un alloggio sicuro e fin qua non c'è granché di cui scandalizzarsi sono delle misure che molte volte vengono introdotte anche dagli stati europei molto più democratici rispetto a quello della cina però poi iniziano i problemi infatti bisogna capire che la struttura economica cinese è molto dualista si stiamo parlando di molte persone all'interno delle campagne con una condizione economica estremamente povera e invece tutt'altra situazione si può incontrare nelle città dove effettivamente il progresso economico ha costruito delle vere e proprie città che sono all'avanguardia e non hanno nulla di da invidiare alle moderne città europee come forse ricorderete dalle lezioni di storia nel liceo sapete che durante la rivoluzione industriale c'è stato questo passaggio dalla campagna alla città proprio per incentivare la richiesta di mano d'opera dalle fabbriche appena che stavano appena nascendo proprio appunto nei primi poli industriali della prima rivoluzione industriale benissimo tutto ciò ovviamente avvenne in maniera naturale perché le persone erano spinte a cercare una migliore occupazione migliore opportunità economica eccetera eccetera quindi erano spinte verso le città dalla della campagna il meccanismo cinese è stato lo stesso in questi anni peccato che è mancata la componente naturale e cioè le persone che spinte da motivi di esigenza di opportunità eccetera eccetera lasciavano le campagne per andare alla città tutto ciò è avvenuto ma tramite un dislocamento forzoso da parte dello stato lo stato andava nelle piccole campagne nelle piccole cittadine di campagna e prendeva le persone in maniera indiscriminata e attuando ordini dall'alto e le portava nella città nelle città in cui potevano godere di migliori condizioni economiche di migliori opportunità di lavoro ovviamente senza assolutamente la volontà dei cittadini stessi del dei campagnoli se vogliamo chiamarli così addirittura i villaggi che dopo appunto queste espropriazioni rimanevano vuoti venivano addirittura demoliti e in molti casi le persone dopo essere essersi trasferite in città volevano tornare in campagna però ovviamente questa opportunità gli era preclusa proprio perché il governo aveva ben pensato di distruggere il villaggio in cui abitava quindi tutto molto interessante e problematico se vogliamo soprattutto da un punto di vista etico a questo si aggiunge ovviamente dei problemi di corruzione tra i funzionari locali che decidevano in maniera del tutto arbitraria quali villaggi sgomberare e quali meno in più molti delle molte delle persone che sono uscite da questo stato di povertà assoluta dipendono dagli aiuti dello stato che potranno in futuro venire meno nel caso in cui il governo decidesse che effettivamente questo problema della povertà assoluta sia scomparso e quindi una volta eliminati questi aiuti di stato potrebbero ricadere sotto la soglia di povertà assoluta che appunto abbiamo visto che è stata dichiarata con successo raggiunta eliminata il 23 novembre dallo stato stesso e in più oltre a ciò c'è un altro problema e c'è quello che il 40 per cento dei lavoratori cinesi è ancora in una situazione definita di lavorativa definita vulnerabile cioè sono stanno svolgendo dei lavori o sottopagati o comunque con una retribuzione inadeguata per lo stile di vita cinese oppure con condizioni di lavoro difficili quindi con lavori molto faticosi eccetera eccetera a tutto ciò si aggiunge anche il fatto che la disuguaglianza all'interno della popolazione cinese è aumentata tra il 1990 e il 2018 in quanto se il 20 per cento della popolazione più ricca nel 1990 era pari al 40 per cento nel nel 2018 è pari al 45 per cento e cosa ovviamente che non si è visto questo aumento considerevole per soprattutto per le classi più disagiate o comunque per le sì soprattutto per le classi più disagiate e quindi questo è il governo cinese che elimina la povertà assoluta a colpi di espropriazioni e aiuti di stato che non si sa quanto dureranno tutto molto interessante vero ora niente direi di passare alla prossima notizia arrivati a questo punto direi di parlare per un momento vi giuro che sarò breve un'altra volta di cashback infatti vi avevo detto nell'altro episodio che per accedere al servizio era si doveva accedere all'appi o dare le proprie coordinate bancarie eccetera eccetera in realtà per accedere a questo servizio si può fare anche tramite altri servizi privati tra cui ad esempio satis pay ip o post e pay o anche altri se volete più informazioni vi consiglio di andare a guardare il mio post su instagram parlando proprio di instagram giusto oggi venerdì 11 dicembre ho annunciato al pubblico senza che nessuno me lo chiedesse questa volta quindi un'opinione non richiesta ho annunciato che non farò utilizzo del cashback questo perché sostanzialmente il cashback come abbiamo detto è un incentivo è un naggio una spinta gentile affinché le persone utilizzino il dei pagamenti digitali cosa che io già faccio da tempo e quindi sostanzialmente per me non risulterebbe più un incentivo bensì un regalo un premio su una cosa che in realtà già faccio naturalmente e visto che le finanze pubbliche non sono poi così solita in questo momento non sono poi così floridissime credo che lo stato non debba permettersi ulteriori regali eccetera eccetera è un po il discorso riguardo le partite iva che prendevano i finanziamenti statali durante marzo e aprile durante la pandemia anche quando in realtà la loro condizione economica non non richiedeva sicuramente questa questa scelta dicendo ciò ovviamente non voglio fare la morale ora la ramanzina alle persone è semplicemente un mio modo di vedere una mia azione e cercando per l'appunto di e l'ho annunciata semplicemente perché mi piaceva esprimere questo concetto di sostenibilità economica quindi fare delle azioni non solo nel senso di sostenibilità ambientale come ad esempio fare la raccolta differenziata e farla nonostante ad esempio in cina venga utilizzato il carbone o in polonia come abbiamo detto in questa puntata venga utilizzato il carbone per produrre energia elettrica allo stesso modo c'è penso che bisogna bisogna attuare dei comportamenti che nonostante ci sia la possibilità di sfruttare un guadagno economico possiamo dire tranquillamente no non lo faccio eccetera eccetera con questo io comunque riguardo lo strumento del cashback non ho nulla in contrario vedremo se sarà utile o meno tra l'altro subito qualche ora dopo aver esternalizzato la mia opinione riguardo l'utilizzo o meno del cashback ho letto anche un interessante articolo sul cashback che praticamente faceva le mie stesse assunzioni nel senso che molto probabilmente quelli che utilizzeranno il cashback saranno le stesse persone che già utilizzano i sistemi di pagamento digitali però detto ciò vedremo come andrà a finire semplicemente non mi reputo nel target e quindi decido di non usufruire di questa opportunità di nuovo non è una ramanzina fate ciò che volete questa è la mia opinione passiamo alla prossima notizia adesso invece andiamo a parlare di politica monetaria infatti giovedì 10 dicembre è avvenuta la conferenza stampa della banca centrale europea tenuta ovviamente da christine lagarde e io l'ho seguita su twitch sul mio canale twitch twitch.tv slash joss pub e ci siamo divertiti un sacco in questa conferenza stampa si sono preannunciati gli strumenti che verranno adottati in futuro da parte della banca centrale europea e sostanzialmente si è potenziato il ppp che sarebbe un programma di acquisto di titoli obbligazionari sia pubblici che privati si è aumentato da 1300 miliardi a 1800 miliardi e si è prolungato fino a metà 2022 allo stesso modo si è prolungato la linea di credito tltro che sarebbero dei crediti nei confronti delle banche che facilitano a sua volta il credito dalle banche alle imprese questa volta anche qui si è prolungato lo strumento da metà 2021 a metà 2022 questa decisione è avvenuta dopo aver studiato tutti i dati riguardanti la pandemia e si hanno visto che effettivamente la l'immunità di gregge secondo la banca centrale europea avverrà solamente verso la fine del 2021 e che ancora la pandemia nonostante abbiano trovato il vaccino non si può dire ancora conclusa dopo queste dichiarazioni appunto molto precauzionali da parte della banca centrale europea i mercati a sua volta hanno agito in maniera precauzionale quindi non hanno aumentato le proprie quotazioni in questo senso parlando proprio di mercati e quotazioni è uscito un interessante articolo redatto da bloomberg che ammette che le quotazioni azionarie all'interno dei mercati finanziari sono aumentate in maniera il costo di queste quotazioni azionarie sono aumentate in maniera spropositata infatti se negli anni 80 bastavano 20 ore di lavoro per un impiegato medio americano per acquistare un'azione all'interno dell'SP500 ad oggi servono 141 ore di lavoro di un impiegato medio per acquistare una singola azione all'interno dell'SP500 che è un indice finanziario molto famoso questo cosa significa significa che per l'appunto c'è stata una vera e propria inflazione all'interno di mercati finanziari che appunto hanno si sono completamente staccati dalle ritribuzioni medie dei lavoratori americani in questo senso questo perché una grande componente del merito o demerito di questo di questo fenomeno è dovuto per l'appunto alle politiche monetarie estremamente espansive delle banche centrali in tutto il mondo ovviamente gli operatori finanziari quando hanno questi soldi da parte delle banche in qualche modo li devono spendere quindi vanno prima o poi a spendere sui mercati finanziari che appunto subiscono un fenomeno inflattivo questo cosa comporta comporta ovviamente delle disuguaglianze perché non tutti hanno dei possiedono delle azioni nei mercati finanziari e questo ovviamente visto che solo una parte della popolazione possiede una grande quota dei mercati finanziari questi mercati finanziari hanno subito un grande innalzamento dei propri prezzi che non è stato controbilanciato dall'inflazione reale ovviamente la ricchezza di queste persone è aumentata molto di più rispetto alle persone che non hanno questi beni finanziari quindi perché sto parlando di tutto ciò perché bisogna sempre stare attenti a parlare dell'economia come qualcosa come una bacchetta magica l'ho ripetuto molte volte ma l'economia molto spesso è una coperta corta con se si hanno dei benefici da una parte molto spesso si hanno delle ripercussioni dall'altra e quindi quando le persone parlano di politica monetaria espansive a destra e sinistra bisogna anche riflettere cosa potrebbe comportare tutto ciò in questo caso si comporta un aumento della disuguaglianza all'interno della popolazione e quindi insomma mi piaceva parlare di questo argomento di cui molte volte non si tratta che ne dite fatemelo sapere nei commenti io sapete vi leggo non vi con molto spesso non vi commetto ma vi leggo se in cina hanno abolito la povertà qui in italia non riusciamo a far funzionare uno strumento fondamentale come quello del rem il reddito d'emergenza questo reddito emergenza è stato ideato per la prima volta nel decreto rilancio di maggio quindi in piena pandemia ed era appunto è stato ideato per supportare le persone più in difficoltà dovute a questa crisi l'importo è stato pari a 400 euro mensili per una persona incrementato di 160 euro per ogni adulto e di 80 euro per ogni minorenne fino ad un massimo di 800 euro la prima la prima tranche di reddito d'emergenza è stata per l'appunto grazie al decreto di rilancio di maggio però sono state successivamente riaperte più volte le domande fino al 30 novembre i requisiti per ottenere questo rem sono la residenza in italia il reddito inferiore al valore del rem stesso l'isa inferiore ai 15.000 euro è un patrimonio mobiliare al di sotto di 10.000 euro e non anche il fatto di non percepire altre prestazioni monetarie pubbliche ha funzionato questo reddito d'emergenza la risposta è come al solito ni infatti le persone aventi diritto di questo nuovo strumento ideato per la pandemia sono state di 705.000 nuclei familiari le persone che in realtà hanno ricevuto il rem sono state 291.000 quindi praticamente hanno aderito a questo nuovo strumento solo il 40 per cento delle famiglie che avrebbero potuto ottenere questi soldi per passare meglio questa crisi economica perché è avvenuto tutto ciò beh la risposta è un po la solita inefficienza della pubblica amministrazione a scrivere delle leggi adeguate al contesto economico e più il più vicino possibile alla città la popolazione ai cittadini infatti da una parte c'è stato un merito riguardo la pubblica la comunicazione non è stato ben comunicato l'esistenza di questo reddito d'emergenza infatti se io vi all'inizio che ho detto rem probabilmente alcuni di voi non hanno saputo di cosa stessi parlando e quindi c'è stata effettivamente una scarsa comunicazione e anche la comunicazione ha peccato sul definire al meglio la distinzione tra il reddito di cittadinanza il rem e tutti gli altri strumenti che il governo ha messo in campo per far fronte alla pandemia e la crisi economica dovuta alla pandemia oltre a ciò c'è anche un problema burocratico infatti come abbiamo detto per accedere al rem c'è bisogno di una dichiarazione ise dichiarazione ise che in realtà molto spesso è difficile da reperire soprattutto per quella parte di popolazione con una bassa educazione in generale in particolar modo educazione economica tra l'altro la cosa interessante è che è vero che per accedere a questo rem bisogna redigere l'ise in realtà di tutte le domande presentate il 2,6 per cento è stato respinto perché c'è stato un ise superiore a quello richiesto per accedere allo strumento in quanto molto spesso si calcola che addirittura il 70 per cento degli italiani ha un ise inferiore rispetto a quello limite dichiarato per l'accesso al rem quindi non si capisce perché è stato imposto un requisito che ovviamente scoraggia le persone a recepire quello strumento che poi in realtà non è un'effettiva metrica per capire se quella persona ha diritto a quello strumento o meno insomma è tutto in un'ottica di complicare il più possibile le cose e rendere ovviamente gli strumenti meno efficaci possibili perché ovviamente più requisiti metti anche se effettivamente la persona poi può accedere a quel requisito cioè rispetto a quel requisito però più ne metti ovviamente più scoraggi le persone più rendi lo strumento difficile da attuare difficile da prenderne parte eccetera eccetera insomma come ho detto anche prima molto spesso il problema dell'italia non sono i soldi ma è la burocrazia la pubblica amministrazione nel cercare di scrivere delle leggi più efficienti e normali possibili in modo che la popolazione riesca a capirle detto ciò siamo verso la fine di questo podcast mi sarebbe piaciuto parlare anche di brexit ma credo che il tempo sia finito e anche perché sostanzialmente di novità non ce ne sono domenica dovrebbero raggiungere un accordo forse la von der lyen e boris johnson e quindi magari ci vediamo la prossima settimana con delle novità anche riguardo la brexit detto ciò vi saluto ringrazio come al solito gli abbonati che rendono possibile questo show e ci vediamo alla prossima puntata di whatsapp economy podcast sperando che questa puntata sia stata di vostro gradimento alla prossima ciao ciao ciao